I carabinieri del comando provinciale di Nuoro e della compagna di Ierzu hanno avviato le indagini per individuare l'autore o gli autori dell'omicidio di Riccardo Muccelli, l'allevatore di 38 anni di Gairo, assassinato ieri attorno alle 18 in località Pelau, in agro di Ierzu. La guata è stata compiuta in una strada privata che conduce all'ovile dell'uomo. Secondo una prima ricostruzione, Muccelli è stato raggiunto da alcune fucilate che l'hanno ferito gravemente, tanto che il pick-up su cui viaggiava ha percorso diverse decine di metri prima di finire contro un muro. A dare l'allarme alcuni cittadini che hanno allertato il 118 pensando ad un incidente stradale. I sanitari hanno tentato di soccorrere Muccelli, che purtroppo è morto a causa della gravità delle ferite riportate nell'agguato. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno isolato la scena del crimine ed effettuato i rilievi al fine di raccogliere elementi utili ad indirizzare le indagini. Il magistrato di turno della Procura della Repubblica dell'Anusei ha disposto all'autopsia al fine di acquisire ulteriori informazioni sulla dinamica dell'agguato. L'omicidio di Muccelli ha lasciato attonita la comunità di Gairo che teme di ripiombare nel clima di tensione vissuto nel 2014-2015 quando il paese venne insanguinato da tre omicidi e un tentato omicidio. In queste ore gli inquirenti hanno sentito i familiari e i conoscenti della vittima al fine di ricostruirne le ultime ore di vita. Le indagini dei carabinieri sono rivolte a 360 gradi e nessuna pista al momento viene esclusa.